Il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo. Romani 15-13 Nei giorni passati abbiamo parlato di speranza, di continuare a credere e di non mollare mai, ma sappiamo bene che non c'è speranza senza Dio. Non ti illudere, non dire a te stesso percorrerò la mia strada da solo, perché l'unico che può darti speranza è Dio. E come abbiamo letto, per abbondare nella speranza bisogna stare con Dio, ogni giorno, ogni momento, ogni istante. Quindi il mio invito è se tu ti senti giù e ancora non hai trovato la risposta, cerca di più Dio. Magari dici, ma io lo cerco ogni giorno, prego ogni giorno. È arrivato il momento di trascorrere ancora più tempo con Dio. E a te invece che magari non riesci a farlo tutti i giorni, impegnati ad avere una costanza. Ciao!